PEGI 18 Le regole d'ingaggio sono cambiate. Attenzione! A tutte le unità, al mio segnale! 3 2 1 Silenzio radio. Via, via, via! Qual è il piano? Non fermarsi. Tireranno l'attenzione. Né fuori di testa. No! Bello, siamo un po' tutti. Togniti i guanti e combatti. Dobbiamo muoverci. Le maniere forti. Eccole. C'erroch. Curie dalla Shiftader hanno tutte le due.